Allora, oggi parlerò di fotografia ma solo come filo conduttore. Rispetto all'ultima volta in cui ho parlato di Mario Lasalandra, un fotografo straordinario che a me è piaciuto tantissimo, prendo lo spunto però proprio da lì perché, se vi ricordate, quel libro mi è stato regalato. Mi fu regalato all'epoca da un'amica di una mia fidanzata del tempo. Voglio prendere spunto da lì proprio perché vi parlo di fotografia e di piccoli doni che ho ricevuto nell'arco del tempo. Purtroppo in questo caso non sono tutti quelli che ho ricevuto perché alcuni li ho in altri posti, però, insomma, in questi giorni ci pensavo e mi faceva molto piacere ricordare questi piccoli doni ricevuti da parte di persone che poi purtroppo in alcuni casi non ho più rivisto o magari non ho neanche più voluto rivedere per motivi personali. In più poi vi farò vedere qualche mia stampa personale. Allora, inizio così del tutto casualmente da questo libro di fotografia di Pietro del Re, che si chiama Un po' più a sud, Racconti africani, che mi è stato regalato, questo è il più recente come regalo, me l'ha fatto una ragazza che si chiama Maria Laura di Biase del Comitato Don Peppe Diana, e me lo regalò perché questo libro è stato presentato da loro, edito da Iod, e praticamente lo stesso autore del libro, insomma il fotografo, era passato di lì a portare questi libri e lei ha voluto regalarmelo, e devo dire che sono molto contento, io non lo conoscevo questo fotografo, un fotografo che in questo caso si è occupato di Africa, e appunto ci sono tantissime fotografie dell'Africa. Il libro di per sé, insomma, è gradevole, non è eccellente, neanche buono da questo punto di vista, dal punto di vista proprio della qualità della carta, però è gradevole, molto gradevole da toccare, insomma. C'è una parte introduttiva e poi ci sono le fotografie di questo fotografo, e ci sono tutte le spiegazioni dei vari luoghi in cui è stato, e delle varie storie, alcune molto molto particolari, e praticamente una di quelle già molto particolari, che a me piace da tanto, riguarda questa foto di questa persona che sta cucinando uno stufato di pipistrello, in una parte dell'Africa in cui appunto si mangia ancora il pipistrello, immagino che si mangi anche in altre parti dell'Africa, ma non solo, probabilmente anche in Asia o anche in Sud America, questo non lo saprei dire, ma in Africa e in Asia sono piuttosto sicuro. E questa foto già di per sé mi piace molto, mi piace molto per la prospettiva, per la luce che viene dall'esterno e che è diffusa, e per i vapori che danno un effetto molto molto particolare alla fotografia, oltre al fatto che lo stufato di pipistrello deve essere qualcosa di molto particolare. Poi ci sono foto diciamo un pochino più classiche, come per esempio può essere questa, che diciamo è abbastanza da rivista, anche tipo National Geographic o qualcosa del genere. E poi più avanti, insomma, si parla di moltissimi posti, del deserto, ovviamente, del Sahel, del Sahara, si parla dei Maesai, anche delle ONG, perché questo fotografo ha collaborato con alcune ONG, per esempio questa foto ritrae un operatore che sta prestando delle cure ad una anziana signora. Insomma, è un libro che a me ha fatto molto piacere ricevere, ci sono tante foto ovviamente drammatiche, come per esempio quelle sulla guerra in Libia, questo fotografo ha seguito anche la guerra in Libia, questo è uno spaccato, e quindi mi ha fatto davvero molto piacere ricevere questo libro, grazie a Maria Laura. Poi questo invece fa parte di una collana che tanti anni fa a Shet ha pubblicato, dei grandi fotografi della Magnum Photos, e questo qui che riguarda René Bourri me l'ha regalato un mio amico, che non vedo oramai, credo da oltre dieci anni, nello ALMA, e mi fa molto molto piacere ricordarlo, anche perché René Bourri è un fotografo che penso che non abbia bisogno di presentazioni, perché è uno dei giganti della fotografia mondiale, e già per esempio la foto in copertina, che voi ovviamente vedrete sempre al contrario, perché purtroppo il cellulare riprende così, già è più che meravigliosa, si vedono questi due amanti, diciamo così, anche se poi non sono amanti, non nel vero senso della parola, nel senso più alto del termine, perché si stanno intrattenendo, sono dei soldati che si intertengono con delle prostitute, purtroppo c'è questa coppia in primo piano, e la coppia sullo sfondo, è una foto veramente meravigliosa, ma poi Bourri, un fotografo che veramente spero che voi conosciate, perché ne vale la pena, segue eventi di guerra in tutto il mondo, ha seguito, non segue, ha seguito in tutto il mondo per decine di anni, ed è stato uno dei fondatori della Magnum Photos, e ce l'è Berri, ma ovviamente è la fotografia che lui ha fatto a Che Guevara, ma anche per esempio in questo caso c'è una fotografia che lui ha fatto a Jacques Prevère, che è anche meravigliosa perché c'è questo quadro sullo sfondo, insomma, sono due ritratti, fondamentalmente in uno stesso ritratto, in una stessa foto. Poi c'è questa qui di Picasso, che è anche straordinaria, proprio per lo sguardo che ha Picasso, che già di per sé lo aveva di suo, però è meraviglioso come è stato immortalato. E poi ci sono tante altre foto di bellezza straordinaria, purtroppo per lo più drammatiche. Però c'è anche questa qui, diciamo, si potrebbe definire della giungla urbana, in cui si vede la modernità che avanza, questi uomini, questi businessmen che camminano su questi grandi grattacieli. In questo caso sono a San Paolo, in Brasile. E qui, questa è la celeberrima foto di Ernesto Che Guevara, ritratto sempre da Burri, quindi voi potete immaginare che personaggio, che fotografo ad aver incontrato tanti personaggi importanti, fondamentali nel corso del XX secolo. Grazie anche, ovviamente, a Nello, per questo. Poi, qui ne ho un altro, che non è un libro fotografico, però è un calendario fotografico, in questo caso anno 2008, comprato a Parigi, di Robert Duanot. Spero che si pronunci così, perché non ne sono sicurissimo, ma credo che sia la pronuncia esatta. E me l'ha regalato un'amica che neanche vedo più, in questo caso per scelta, da un pochino di tempo, però, a cui sono molto, molto affezionato. E lei andò a Parigi, credo che ci vada ancora spesso, all'epoca ci andava spesso, e me lo portò come regalo per l'anno 2008, quindi sono tantissimi anni fa, e anche questo fotografo, ovviamente, non ha bisogno di presentazioni. Anche questa foto è meravigliosa, che a me ricorda moltissimo la Nouvelle Vague, e non so, i film di quel tempo. bello, molto, molto, molto bello. Grazie anche a lei. Poi c'è quest'altro libro, di un fotografo, in questo caso, penso semi-sconosciuto, a parte forse in Spagna, e nello specifico magari a Madrid, che è César Bailon, e il libro fotografico si chiama Ghirigato, che me lo ha regalato una mia, diciamo, fidanzata dell'epoca quando sono stato a Madrid, una ragazza spagnola, di cittadinanza spagnola, però di origine della Repubblica Dominicana, Mari, non dico il cognome, per ovvi motivi, che, allora, praticamente, noi stavamo passeggiando in una delle nostre passeggiate, io ho sempre molto interessato alla fotografia, insomma, mi fermavo in moltissime gallerie che avevano delle esposizioni, e Madrid, devo dire, da questo punto di vista, almeno all'epoca in cui ci sono stato io, era molto molto vitale, molto ma molto ma molto di più dell'Italia, e quindi mi sono visto tantissime mostre, ho conosciuto tantissimi fotografi che non conoscevo prima, così come questo Bailon, che tra l'altro ebbe la fortuna, il modo di incontrare proprio in un giorno successivo all'inaugurazione della sua mostra in questa galleria dove ci fermammo, lui però poi mi disse il proprietario, in seguito, che era andato lì per chiedere un pochino di aiuto economico, perché stava in ambasce, in ambasce economica, che infatti viveva, diciamo, per lo più in strada, e doveva andare avanti, insomma questa cosa mi ha toccato molto, perché comunque un fotografo che in alcuni casi sono delle foto molto molto belle, non direi che uno dei fotografi miei preferiti, lo è diventato nel senso affettivo, perché mi è stato regalato questo libro, ripeto, da questa mia fidanzata dell'epoca, scusate, per cui sono molto legato, e comunque la cosa meravigliosa è che questo libro è stato del tutto finanziato dalla comunità di Madrid, quindi sia dal comune che, diciamo così, dalla provincia, si potrebbe dire, di Madrid, e quindi questa è una cosa bellissima, perché gli ha reso omaggio ancora in vita, senza aspettare che morisse, io tra l'altro non so se nel frattempo, spero di no, perché non era molto avanti con l'età, però era un po' cagionevole di salute da quello che ho potuto notare, però spero che non sia morto insomma nel frattempo, e che anzi sia meglio di come l'ho visto io al tempo, e questa è una bellissima cosa che ha fatto la comunità di Madrid, e devo dire che a livello pure qualitativo è assolutamente un libro discreto dal punto di vista delle stampe, sì, la qualità, le pagine, le stampe sono molto spesse, oddio, molto spesse, per essere un libro sono abbastanza spesse, e questo mi fa molto molto piacere, e Belon, Ghirigato, è un suo progetto, però anche lui si può definire un Ghirigato, quindi hanno fatto benissimo a chiamarlo così, questo libro, questo libro omaggio, perché Ghirigato praticamente è un gatto randaggio, un gatto di strada, e sono quei gatti che si vedono un pochino arruffati, un pochino scontrosi, diffidenti, che magari reagiscono male, scappano, oppure ti aggrediscono, però perché ne hanno passate di tutti i colori, eppure lui è così, lui è pure stato in Spagna, in tutta la Spagna, ma anche un pochino in giro per il mondo, in questo caso la foto di Covertina è trattata da una foto scattata in India, però ripeto, è una cosa bellissima che questa comunità di Madrid abbia voluto rendere omaggio a questo fotografo, che ha fotografato nell'arco degli anni tantissimi luoghi, questa fotografia a me piace molto perché questo ragazzo sembra un James Dean spagnolo, meraviglioso, ci sono foto di tante processioni religiose, ci sono foto nel mondo, come ho detto, per esempio, questa viene dal Marocco, questo è un dittico molto molto bello, che a me piace molto, insomma, grazie anche alla mia finanziata dell'epoca, Mari, e poi c'è quest'altro libro che è il più grande di tutti e pesa davvero tanto ed è veramente ben fatto, che si chiama Il volto della follia, cent'anni di immagini del dolore e tratta dei manicomi, di tantissimi fotografi italiani e stranieri che hanno affrontato il tema dei manicomi, quando erano ancora aperti e anche dopo la chiusura, insomma, ci sono tantissimi fotografi tra cui uno celeberrimo, insomma, italiano, è Gianni Berengo Gardin e devo dire che questo libro me l'ha regalato una mia amica che attualmente ci vediamo, oddio, non spesso purtroppo, però ci vediamo comunque periodicamente, si chiama Maria Tagliacozzi a cui voglio molto molto bene, mi ha fatto molti regali, tra cui questo libro che per me è stata una scoperta perché mi sono sempre interessato di follia, di pazzia e di fotografia in questo senso, tanto che stavo un tempo che avevo immaginato di fare un progetto fotografico per il manicomio che abbiamo qui vicino dove vivo io che è quello di Aversa, manicomio criminale tra l'altro, tra l'altro una struttura meravigliosa, fatiscente, totalmente in rovina ma meravigliosa dal punto di vista architettonico, poi vabbè non l'ho fatto più, magari chissà, un domani lo riprenderò per quello che è rimasto ovviamente della struttura e questo libro ha una prefazione lunghissima perché ovviamente spiega tutto l'iter sia legislativo che proprio storico dei manicomi in Italia appunto cent'anni ed è fatto davvero molto bene ed è stato pensato e stampato credo anche in Emilia Romagna e ci sono come dicevo tantissimi fotografi italiani si parte dagli albori della fotografia appunto dei manicomi delle persone con problemi psichiatrici e quindi si parla appunto di circa cento anni fa queste prime foto fatte su lastre per esempio come queste che sono per quanto semplici e penso che volessero essere solo foto d'archivio però sono struggenti perché i volti sono purtroppo espressivi della problematica che appunto vivevano queste persone problematiche che poi per la maggior parte delle volte venivano amplificate proprio all'interno di questi cosiddetti manicomi perché purtroppo queste persone venivano trattate come dei subumani non da tutti per carità però purtroppo purtroppo era così questa foto qui per esempio di Giuseppe Fantuzzi è davvero molto molto bella anche se non è molto diretta non è molto violenta anche nell'impatto però ci sono tantissime tantissime foto per esempio c'è questo Mario Vaiani molti sono fotografi che io non conoscevo e anche questa è stata un'occasione per conoscere alcuni fotografi italiani ripeto e non poi ci sono delle foto totalmente esplicite che sono entrate anche un pochino nell'immaginario collettivo da questo punto di vista ed è insomma un libro molto molto struggente ripeto fatto bene dal punto di vista della stampa della grafica e quant'altro però davvero molto molto toccante molto molto forte non faccio vedere tutte le immagini perché ovviamente sono tantissime per esempio faccio vedere Shanna giusto perché anche lui è un fotografo celeberrimo in tutto il mondo e anche lui ha trattato questo questo argomento e l'ha trattato con suo fare di altissimo livello ovviamente poi ci sono dei fotografi verso la fine a me piaceva tanto Anders Pettersen che mi piace il suo modo di ritrarre che è quasi metafisico insomma non si riesce a percepire bene c'è questa alone di mistero che è molto molto interessante una tecnica molto particolare poi c'era un fotografo brasiliano di cui ora non ricordo il nome che pure mi era piaciuto tanto lo riuscirò a trovare credo spero questa foto qui è meravigliosa questa foto qui è meravigliosa veramente bellissima questi sono soprattutto anni in cui almeno in Italia i manicomi erano stati chiusi ma nelle altre nazioni del mondo no purtroppo non non in tutte non riesco a trovare il fotografo ah c'è anche qualcuno che ha scattato a colori ed è veramente un lavoro molto molto bello perché ci sono dei colori che sembrano quasi tenui leggeri quasi ti danno il senso di pagatezza di rilassatezza insomma anche se poi purtroppo non era così e i fotografi sono adam brunberg e oliver chanarin che hanno lavorato all'ospedale psichiatrico rene baglieco di cuba nel 2003 e sono faccio vedere giusto due foto sono davvero molto molto belle insomma quindi si vede che ci sono tantissimi fotografi queste sono sempre degli stessi fotografi sono molto belle queste qua si vede che sono già fotografie più ragionate e sono state scattate appunto in maniera in maniera molto più ragionata per ottenere anche un effetto che vada oltre la fotografia in sé oltre il reportage non trovo il fotografo brasiliano mi sono ah eccolo penso di averlo trovato Claudio Edinger o Edinger probabilmente Edinger e c'è questa fotografia queste due fotografie di questa pagina che mi sono piaciute tantissimo che sono veramente molto molto belle insomma questa è la quarta di copertina e questa foto è emblematica bene grazie anche a Maria Maria Tagliacozzi e ora vi faccio vedere qualche mia fotografia qualche mia stampa stampa in fine art a pigmenti di inchiostri a pigmenti di carbone questa per esempio è una stampa che riguarda New York il mio periodo new yorkese ed è stampata su alluminio di bond purtroppo le stampe sono un pochino rovinate perché le ho usate per tantissime mostre che ho fatto nell'arco degli anni per cui sono un pochino rovinate ovviamente quando me le richiedono faccio ristampare tutto da capo e poi sulle specifiche del cliente insomma le faccio stampare non per forza su alluminio di bond anche su altri supporti questa qui è una delle mie preferite in assoluto foto sempre del periodo new yorkese è una foto a mio avviso straordinaria di straordinaria bellezza che ho chiamato Dye e questa è un'altra foto del periodo new yorkese questa è Chinatown ripresa dal ponte di Brooklyn però praticamente io approfittai di un momento in cui stanno facendo dei lavori alla base del ponte gli operai non si accorsero di me e io praticamente passai in questo cantiere che ovviamente non si poteva accedere a questo cantiere salì una parte del ponte grazie ai ponteggi che c'erano e varie cose e quindi mi misi praticamente sopra di me passavano le macchine non le macchine i passanti insomma c'erano i passanti la parte del ponte è aperta ai passanti per attraversare appunto da una parte all'altra e io stavo nella parte giù insomma della struttura della struttura portante su queste impaltature fatte da questi operai e quindi scattai questa foto da una posizione molto molto particolare quasi del tutto centrale sulla strada mi mancava pochissimo ma non ci potevo andare perché l'impaltatura proprio non c'era e quindi ad un orario anche abbastanza buono perché era sul tramonto e poi da un'altezza particolare al punto che si potrebbe raggiungere credo in questo momento solo attraverso un drone perché credo che ora le impaltature non ci siano più e quindi non ci si possa andare quindi sono stato molto fortunato ne ho approfittato di questa cosa poi c'è quest'altra fotografia sempre su D-Bond alluminio D-Bond pigmenti di carbone inchiostri a pigmenti di carbone che è una foto che per me è di straordinaria bellezza che ovviamente è esplicita è un momento meraviglioso della natura delle mamme che hanno questa grandissima fortuna e io l'ho voluto ritrarre per me è una delle mie foto preferite in assoluto mentre qui più in piccolo pannellate su diciamo materiali più più poveri su Forex c'è una parte di un mio progetto che è sempre andato in diverse parti d'Italia e anche in questo caso d'Europa a Madrid quando sono stato a Madrid che è il progetto Caronte che è un progetto onnicomprensivo insomma del mio territorio io ero il Caronte della della mia zona delle mie zone dove vivo l'imetrofe a dove vivo fra Castelvolturno Napoli San Cipriano d'Aversa Casal di Principe ma anche altri altri posti e mi sono spostato insomma ho fatto da Caronte appunto da traghettatore in questa realtà in questa realtà che spesso viene come posso dire non vuole essere vista non vuole essere anche mostrata la si vuole tenere come se fosse sotto un tappeto come quando si nasconde la polvere sotto al tappeto per far vedere non far vedere che magari un posto è sporco ma non è vero non si tratta di sporco si tratta solo di aiutare determinate persone ma anche gli edifici perché io ho ritratto moltissimi edifici in abbandono quindi non mi riferisco solo alle persone le persone ovviamente bisogna sempre aiutarle ma anche gli edifici bisogna aiutarli tra virgolette ad essere dignitosi ad avere una loro dignità e a non decadere e creare bruttezza questa è una foto a cui sono molto molto affezionato perché qui c'è una strada dietro ma sarebbe troppo troppo lunga poi magari un'altra volta la racconterò e insomma ci sono tante tante foto a cui sono molto affezionato sono tante stampe il tipo di stampa è sempre lo stesso bianco e nero su carta cotone puro al 100% inciostri a pigmenti di carbone e questa è una foto meravigliosa una persona che ho incontrato durante questo mio progetto che è durato oltre 4 anni accoltellata e questi sono tutti i punti di sutura che lui aveva avuto accoltellato fra il collo e la schiena insomma ci sono tantissime realtà struggenti perché poi ho fotografato come avete potuto vedere anche tossicodipendenti come in questo caso una persona che stava preparando del crack edifici decadenti in cui queste persone tra l'altro spesso vivevano questa è una foto che io ritengo meravigliosa che ho chiamato la vergine delle nubi incontrai questa persona che praticamente stava piovendo io le offri l'ombrello per ripararsi e lei praticamente mi disse perché non mi fai una foto mentre io mantengo l'ombrello visto che comunque stava il cielo aveva dato una piccola tregua perché aveva fatto un'acquazione tremendo però aveva dato una piccola tregua e quindi c'era questa luce leggermente diffusa da dietro che è meravigliosa e io praticamente feci scattare questa foto ed è una foto stupenda stupenda veramente stupenda perché lei si mise in posa da sola e io non non dissi niente così faccio le mie foto non faccio mai mettere in posa alle persone tranne quando faccio un progetto particolare per determinate cose poi ce ne sono altre fotografie ma volevo far vedere giusto altre due questa qua che si chiama ho chiamato gigante addormentato che tra l'altro questa è una di quelle che sono riuscito a vendere e a me piace tantissimo perché sembra veramente un gigante addormentato sulla spiaggia questa casa diroccata con questa testa che sarebbe questo divano provasciato così dalle persone dagli esseri umani incivili ovviamente ma anche dalla natura perché immagino che un pochino il vento l'abbia potuto spostare le mareggiate e quant'altro e questa invece è una foto sempre io non ho fatto mettere in posa questa persona si volle mettere lei così in posa ed è una foto per me struggente meravigliosa e una cosa che ho scelto io appositamente è quella di non far vedere il piede per dare un senso di incompiuto perché sennò magari poteva sembrare una foto tra virgolette di moda un nudo artistico quasi di moda o di una modella eccetera eccetera invece no perché volevo rappresentare altro volevo rappresentare la prostituzione in casa quella che si fa all'interno delle case e volevo dare un senso di come posso dire un qualcosa che non è compiuto che è caduco che appunto non è precario non ha un equilibrio infatti anche la foto non ha un equilibrio vero e proprio non del tutto almeno anche se per me è una foto è una foto meravigliosa insomma vi ho parlato di alcune cose personali anzi tutte cose personali attraverso la fotografia alcuni regali cui sono molto molto affezionato e alcune mie fotografie spero che vi sia piaciuta questa a questa serie insomma poi a breve parlerò di altri libri e di altri di altri film grazie di tutto e buona giornata grazie a tutti